I capi della malavita storica Tarantina, scontata una pena in carcere ultra ventennale, da un paio d'anni erano fuori e si erano già riorganizzati. L'inchiesta parte da una telefonata che Nicola De Vitis, uno di questi, fa all'avvocato Carlo Taormina, minacciandolo perché ritenuto incapace ed esoso nel ruolo di difensore. Il legale denuncia partono le prime intercettazioni, le conferme e le novità. I De Vitis e Ido Ronzo, due clan storici, si sono rimessi insieme in affari, accorpando anche altre vecchie consorterie della malavita tarantina. Non hanno difficoltà con la forza intimidatoria che deriva dal passato a riavviare una lucrosa attività estorsiva. Con metodo vecchio stampo, ha detto il procuratore antimafia Motta, colpendo le attività commerciali più avviate e chiedendo senza scrupoli ingenti somme di denaro. Denaro che poi viene investito, come sempre, nel traffico di stupefacenti, violenze, attentati e minacce, anche armate, per ottenere lo scopo, fino alla estigazione di un omicidio, quello commesso da un venditore ambulante di cozze nel maggio 2013, un nipote dei De Vitis, per affermare la superiorità e l'assoluto controllo del territorio, uccidendo un sodale del clan Modeo. E in ultimo, un certo controllo anche sulle attività politiche e amministrative della città, attraverso la gestione di società e circoli sportivi e di locali commerciali in strutture pubbliche. Tra gli arrestati c'è un imprenditore impegnato in politica ed il marito di una consigliera comunale e neoeletta consigliera provinciale.